Finalmente ricomincio la nuova stagione sportiva e non vedo l'ora di tornare a nuotare. Quest'anno, oltre ai protocolli di legge previsti, saremo ancora più sicuro, perché il tuo istruttore controllerà il Green Pass direttamente a Bordo Vasta. Sul tuo cellulare, se preferisci portarlo con te. Oppure con il Green Pass cartaceo, inserito in questo portadocumenti, che ti omaggeremo noi. Tu fatti con noi in questo nuovo anno sportivo.